Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori ci sono tre chilometri di coda in diminuzione in direzione Firenze, tra Empoli e Montelupo-Fiorentino, rallentamenti in direzione mare tra Ginestra, Fiorentina e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11, tutte le info sui nostri canali social. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Su Raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla Statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Grosseto Nord e Grosseto Est. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!